Quello che faremo, quello che vedrete danzare, sono le danze che si danzavano all'epoca. Nei palazzi reali che abbiamo nominato prima, alle corti, si danzavano questo tipo di danze, quello che noi studiamo da oltre dieci anni e che riproduciamo fedelmente. Le danze sono valse, sono quadriglie, sono contraddanze, quindi sono tutte quelle danze tipiche di quell'epoca che venivano danzate in tutta Europa e Napoli faceva da capofila sia per la formazione di danze sia per i gran balli che si tenevano per lo più nel Palazzo Reale e a San Carlo. Il San Carlo, il teatro San Carlo di Napoli, del Chino Rosario.